Il famoso battistero di Cremona. Che meraviglia, mamma mia. Ecco, cosa di bellissimo. E guardate che spettacolo. Mamma mia. Mamma mia, che bello. Voglio restare qua a vita. Guardate già freschi. Guardate più verdi. Guardate qua. 8 Io non lo sto facendo. Che bello. Io non lo sto facendo. 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 Guardate le volte. Fantastico. Questo altare qui è un'innomoria. Io non lo sto facendo. 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 Posso farmi rinchiudere qua dentro? Guardate che meraviglia. Mamma mia. Io non lo sto facendo. guardate. Io non lo sto facendo. guardate. Guardate come è alto questo battistero. scrolling. Guardate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.